Quando ricevi una diagnosi di demenza, spesso famiglie e amici ti aiutano nei compiti quotidiani. Quando la vita diventa più difficile, è spesso necessario un supporto dai servizi formali a domicilio o comunitari. Può essere difficile sapere quali servizi sono disponibili e come accedervi. Alcuni richiedono un invio specialistico, alcuni hanno lunghe liste d'attesa, a volte il servizio di cui hai bisogno non è disponibile nella tua zona, oppure quelli disponibili non sono adatti a te. È molto utile incontrare una persona che ti guidi in questo momento confuso, ma questo non succede a tutti. Il progetto Active Care ha cercato modi per migliorare l'accesso ai servizi a domicilio e comunitari per la cura delle demenze. Dovrebbe essere semplice sapere quali servizi sono disponibili nella tua zona, questi dovrebbero essere economicamente accessibili, incontrare i tuoi bisogni specifici ed essere forniti da persone che li comprendono. Avere una persona di riferimento fin dal momento della diagnosi è molto importante. Questa persona impara a conoscere te e i tuoi bisogni e il tuo primo porto sicuro in caso di crisi, ti consiglia e ti aiuta ad accedere ai servizi, coordina l'assistenza, resta al tuo fianco lungo l'intero percorso. Abbiamo presentato queste raccomandazioni ai decisori politici europei. Il prossimo passo è capire cosa è necessario che avvenga per implementare queste raccomandazioni in ogni paese. Per saperne di più sui risultati del progetto visite il nostro sito.